Tanto tu o no che piove. Dopo l'ennesima sostituzione in giunta, la nona, sei consiglieri comunali hanno presentato la mozione di sfiducia al sindaco di Militello Rosmarino, Salvatore Riotta, a firmare l'impiccimento il presidente del Consiglio Comunale Antonino Mileti, il consigliere di maggioranza Benedetto Artino Innaria, il consigliere indipendente Sandra Loparo e i tre consiglieri di minoranza, il capogruppo Teresa Travaglia e poi Davide Blogna e Donatella Cangemi. La mozione, che costa di cinque pagine, è stata presentata ieri. Malcontento sociale, insoddisfazione diffusa, mancanza di coesione interna, tutte vertenze ed altre che avevano già sollecitato il Consiglio a discutere una prima mozione di sfiducia nel febbraio dello scorso anno, ma non ottenne i numeri per passare. Ora gli ulteriori sviluppi, che evidenzieremo nella loro integrità al termine del Tg con un approfondimento, ora presentiamo uno stralcio. Abbiamo presentato la mozione di sfiducia e devo dire che è una mozione di sfiducia del tutto trasversale, poiché porta la firma di sei consiglieri comunali e di conseguenza, dati i numeri attuali del Consiglio, che non è nel suo plenum ma conta otto consiglieri su dieci, possiamo dire che è una mozione di sfiducia approvata o comunque presentata, firmata, dalla maggioranza del Consiglio. È una mozione di sfiducia che arriva all'esito di un lungo percorso di deterioramento del clima, clima politico, amministrativo, istituzionale e rappresenta e incarna il malcontento, diffuso, l'insoddisfazione del popolo di Militello. Una insoddisfazione che, a dire il vero, è partita all'indomani dell'insediamento della squadra amministrativa. La gente non ha più fiducia del Sindaco e non solo, anche il Consiglio Comunale ormai è deciso. Sei consiglieri abbiamo presentato una mozione di sfiducia nell'interesse del Paese, esclusivamente nell'interesse del Paese.